Al via in Piemonte la banca regionale del plasma Covid-19. Anche gli ospedali di Verbania e Domodossola tra i 16 centri regionali in cui sarà possibile donare il plasma iperimmune per la cura sperimentale dei pazienti affetti da coronavirus con insufficienza respiratoria. Tra i requisiti principali dei donatori, essere guariti con due tamponi negativi ed avere la presenza di anticorpi alti. Diverse nel BCO le persone che si sono già fatte avanti ed hanno telefonato al servizio immunotrasfusionale della nostra azienda sanitaria. È un tema molto sentito. Alcuni ci hanno contattato già nei giorni passati quando si è iniziato a parlare di plasma, afferma il responsabile della struttura, dottor Leonardo Ruscito. L'operatività della raccolta dovrebbe essere assicurata a partire da giugno. Il dottor Ruscito spiega che si sta ultimando la domanda al comitato etico dal quale ciascuna ASL deve essere autorizzata. Si stanno anche arruolando i pazienti che potrebbero essere idonei, in particolare, dicevamo, i guariti con anticorpi alti. Per questi volontari, esami aggiuntivi e solo dopo l'esito di questi ultimi verranno eventualmente sottoposti alla plasmaferesi con la separazione del plasma iperimmune dalle cellule del sangue. Da ciascun paziente il prelievo di 600 millilitri di plasma. La sacca verrà congelata e inviata a Torino dove sarà sottoposta all'inattivazione virale e dove sarà suddivisa in aliquete da 200 millilitri. I pazienti affetti da coronavirus saranno trattate con una di queste sacche ogni 48 ore. Il dottor Ruscitto spiega che questo progetto sperimentale che dovrebbe durare un anno e mezzo viene definito studio a tre braccia. Una quota di pazienti viene trattato con plasma iperimmune, un'altra con plasma normale ed un'altra ancora con terapia farmacologica. Si cercherà di capire come i pazienti rispondano ai diversi trattamenti e quali risultino più efficaci in termini di riduzione della mortalità, di durata dell'adegenza in terapia intensiva e di durata del supporto respiratorio, oltre alle variazioni di numerosi parametri clinici. Ruscitto non nasconde le difficoltà nell'arruolamento per le quali ci si sta organizzando. È anche utile raccogliere il plasma con anticorpi ad alto titolo il prima possibile, men che permangano per un certo tempo. Grazie. Grazie. Grazie.